I carameggi? Penso che vieni a tonno. Agile! Intellico! Intellico! Utreva! Qua c'è i vecchi contro... Vediamo cosa salta qua. Cristian ha 34 anni. Vai Cristian. Vai Cristian. Vai Cristian. Va bai! Vai bai! Vai, vai! Vai, vai ancora, Griscia! Vai! Vai, Griscia! Balla! Vai, Griscia, nel costo! Vai, vai, vai! 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 Vai! Bravo! No, no, no! Vai, Griscia! Vai, Griscia, vai, vai! Vai, Griscia! Vai, vai, Griscia! Vai, vai, Griscia, vai! Vai, diverso! Vai, Griscia, vai! Hai, vai, vai, vai! 250. Abre! Di, 16! mamma quanto se ne danno qualcuno apre l'elmo a Cristiano va Cristiano va Cristiano va Cristiano va Cristiano bravo Cristiano bravo bella questa ha vinto papà c'è il vecchietto eh vecchietto ha tutto arrivo quindi dai un applauso perché bravo 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 vabbè ridiamo e scappiamo anche per avete visto che il sbocco è notevole quindi bisogna anche cercare di capire che si veramente si respira veramente poco all'interno all'interno dell'elmo mi diventa difficile ci vuole la pescatola adesso per Cristiano per prima di via l'elmo beh stai così tanto per un po' lo combatti ancora no me lo fa morire lì vabbè ascoltate non gli hai mica dato abbastanza ah no ragazzi Allora allora gli scudieri non li vogliamo in lì allora vince Cristiano il 46 a 24 wow